Ulivo 2.0 getta le basi per il rilancio economico e sociale del Molise puntando dritto alle prossime elezioni regionali. Lo fa con un programma partecipato in grado di coinvolgere le energie migliori presenti sul territorio. Lavoro e politiche sociali, salute, qualità della vita, sport e prevenzione, attività produttive, cultura, scuola, università e ambiente e territorio sono i cinque assi, cinque forum su quali sarà realizzato il piano regionale di sviluppo. Un piano che rappresenterà la svolta e l'inversione di rotta rispetto agli ultimi cinque anni di governo Frattura. A Campobasso la conferenza stampa, l'ultima prima della pausa estiva, dei promotori del nuovo soggetto politico tra i quali i parlamentari Ruta e Leva che hanno parlato della necessità di restituire il futuro, la speranza, ai cittadini del Molise. Un Molise che ha ricordato Leva, secondo un recente studio, rischia di scomparire da qui ai prossimi 20 anni. Serve una classe dirigente che non si consideri autosufficiente, ha precisato il parlamentare e noi faremo in modo che la condivisione di questo importante progetto per il Molise sia la più ampia possibile. Ruta ha illustrato le tappe del percorso intrapreso da Ulivo 2.0 che anche il suo indirizzo di posta elettronica ha mostrato in anteprima la stampa. La prima è rappresentata dall'Assemblea plenaria e in programma per i primi giorni di settembre. In quella sede sarà discusso il piano di sviluppo regionale e definite le modalità per la scelta del candidato alla presidenza della regione e di quelle delle liste di appoggio. Saranno scelte ponderate e fatte con la massima trasparenza assicurato Ruta. Poi la risposta di leva a una recente intervista del governatore che annuncia l'intenzione di ricandidarsi e di recuperare i rapporti con l'Ulivo 2.0. Cancella i piani operativi sanitari e siamo pronti a ragionare. Le alleanze si fanno partendo dalla politica, non dai posti delle persone. Il fallimento di questo governo regionale è sulla politica, sui risultati che non sono arrivati e soprattutto sulle promesse mancate fatte agli elettori 5 anni fa. Questa è la risposta dell'On. Levalo. Grazie.